L'incidente è nel pomeriggio di mercoledì 21 aprile intorno alle 15 sulla 4,60 all'altezza di Leny, coinvolte tre vetture, un Audi A3, un Honda Jazz e una Fiat 500. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Torino Stura, le ambulanze, la polizia locale di Leny e i carabinieri della compagnia di Veneria Reale. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti di due delle vetture, il bilancio è di tre feriti trasportati in ospedale. Al vaglio la dinamica del sinistro, la 4,60 è rimasta bloccata al traffico il tempo necessario a soccorrere i feriti, rimuovere le vetture e ripulire la carreggiata. Grazie. 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 Grazie.